Per dimagrire devi prima accettare il tuo corpo, cioè non dimagrirai fino a quando non tratterai il corpo che hai con estrema pazienza e gentilezza, fino a quando non sei in grado di tollerare la tua visione allo specchio nudo, fino a quando non sei in grado di portare a spasso il tuo corpo in costume in una spiaggia affollata non potrai dimagrire e anche se dimagrirai grazie alla ricettina dietetica imposta dall'esterno, poi il tuo corpo che ha una memoria si ribellerà e tenderà a farti diventare di nuovo come prima. Quindi per dimagrire devi prima accettarti e devi cambiare uno stile di vita globale di cui la relazione col cibo è soltanto un piccolissimo ingrediente e imparando ad accettare questo corpo e a trattarlo con cura e amorevolezza, a partire dalla crema che ti dai e dai massaggi auto che ti sottoponi. Forse cambiate le abitudini e lo stile di vita e reso alleato il tuo corpo, allora potrai anche studiare un stile alimentare che però fa il caso tuo e che per forza di cose deve rispettare i tuoi gusti e il piacere. Senza piacere non si può vivere, quindi le diete restrittive non aiutano a dimagrire ma solo a soffrire e a snaturarsi ancora di più. Grazie.